Stanotte inizia un servizio puntuale di lavaggio stradale con del cloro e di sanificazione con prodotti adatti su marciapiedi e strade. Da domani sospensione del pagamento delle strisce blu e moratoria di 30 minuti anche per poter parcheggiare negli stalli riservati ai residenti. Questo per consentire ai familiari che in via straordinaria si muovono da casa di raggiungere i propri parenti, anziani, soggetti in difficoltà che non possano deambulare e portare alimenti e medicine. In più ci sarà un servizio di ascolto telefonico curato dai servizi sociali del comune per dare informazioni ai soggetti in difficoltà e se del caso per provvedere alle famiglie indigenti che non hanno parenti anche la dotazione a casa di alimenti e di farmaci. I cittadini debbono darci e darsi una mano e dunque l'isola felice è casa nostra, dunque bisogna rimanere a casa, punto, senza se, senza mai, senza tanta filosofia, tranne per casi di emergenza. La norma prevede quali sono e con un'autocertificazione a bordo. Bisogna dunque assolutamente limitare gli spostamenti. Questo per dire sostanzialmente che dobbiamo trovare tutti i modi per evitare il propagarsi del contagio. La situazione non è estremamente grave, però in ogni caso bisogna prevenire l'evolversi che si può verificare da un momento all'altro. Dunque confidiamo molto sulla collaborazione dei cittadini tutti, sulla responsabilità dei cittadini tutti. Vado a dire anche che qualche sciacallo è in giro per fare anche qualche razzia, però ho avuto rassicurazioni dal questore e dal prefetto sul potenziamento anche dei controlli serali, serali non solo a tutela anche dei beni propri, vuoi per le attività commerciali tutte, vuoi per quelli privati, dunque per evitare anche atti di sciagallaggio e di furti.